eccoci qua eccoci qua scusate ragazzi non so cosa sta succedendo stasera a intero di casa mia bisogna dire vittorio di vai dire a vittorio di smettere di guardare le cose su youtube per piacere scusate ragazzi ma non so cosa sta succedendo stasera la vedete adesso la live facendo la registrazione arrivo scrivi i problemi tecnici scusate ragazzi problemi tecnici continua a fare delle micro disconnessioni la linea e non capisco perché ho tolto anche tutte le varie connessioni adesso che ci stiamo divertendo e stiamo vincendo anche la linea ci si mette contro raga secondo me pierpaolo è tutta colpa sua grande shard problemi tecnici e del riavvio che la connessione si risolta anche a te no il gioco appena ha chiesto di fare il riavvio ok ok no 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 non è normale no sono io il grande lord impalato problemi tecnici ragazzi si scusate scusate allora moris io non vedo che posso entrare da te come mai perché siamo già dentro scusate ragazzi non mi fa entrare più ragazzi ero già dentro una una vecchia volpe ma una gara incredibile grande moris grande 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 è la prima di tante vittorie marco mi sta facendo ridere devo dire una cosa dimmi tutto lancio un coltellino prendo uno in testa come vuol dire acqua cio no do conferma shard e acqua frisantina allora cosa devo fare vanguard warzone come warzone amico mio ma lei è tanto a tutti far warzone io vorrei farvi sentire se ce la faccio la mia play 4 come so ok ok Pierpaolo ci sei? sì ma mi vuole far far l'addestramento e lo devi fare nooo vabbè dai facciamo la partita e quando lo finisci va bene va bene allora chi è il capo? quando sono pronto a farmi uccidere arrivo va bene va bene dai vai vai ciao amici grande lord impalatore no cosa ho detto io quando si va contro si vince è vero ne? dove siamo andati noi sì è vero andiamo lì andiamo lì io ti seguo sì e mai oh io di una cosa a marco marco dimmi tutto mi sto facendo ridere? grande dai dai bellissima serata ragazzi bella serata proprio davvero ragazzi sì scusate la linea ragazzi ha fatto probabilmente abbiamo fatto divertire talmente tanto la linea telefonica di casa mia che Sky ha deciso di non andare più stasera e si è confuso da solo no eccola la connessione si è dissociata bravissima bravissima mi dissocio categoricamente la connessione grande Filbo domani andiamo con Gran Turismo 7 ragazzi ciao Filbo sì c'è Filbo grandissimo domani Morris ti aspetto se vuoi vedere Gran Turismo ma tu hai anche Gran Turismo vero? eh? hai anche Gran Turismo vero Morris? sì ce lo ti guardo nelle live grande grande domani giochiamo Gran Turismo eh dopo tutte le volte che vuoi giocare con noi così ci divertiamo ridiamo scherziamo me lo fai sapere e organizziamo la serata Call of Duty Warzone va bene Morris? va bene grande grande così così fai imparare noi vecchietti eh? come si fa a giocare eh lord sei vecchietto anche tu no io sto salendo di livello eh sì io sono vintage tra due livelli ho l'evoluzione finale bravo bravo io che una volta ero a livello 253 no quindi ho cambiato la sisma 153 amiche quando cambiano le stagioni devi a zero o te cala sì quando allora quando cambiano una stagione definita ma è ciao chi è l'amico non so parlare definitamente ti cacciano il il livello ma no ma pensa a te che balordi ma che bella è qui Morris non ti sei bello quando mi piace la tua pochettina grande Morris solo so parlare però perché non so parlare ci sono volte no ti preoccupare comunque sia sei grandissimo ti stai simpatico con la giuri sì ma è perché mi piacciono i bimbi grande grande guardate ne ho ordine uno su Amazon tranquilla va bene ci sta ci sta un bambino su Amazon sto mangiando i nutella biscuit oh Morris stai dicendo una cosa incredibile io sono a dieta non puoi dirmi queste cose qui buonissime i nutella biscuit sto mangiando l'insalata l'insalata gli ho detto non puoi dirvelo sto mangiando l'insalata l'insalata biscuit è vero è vero ragazzi è bravissimo Morris gioco gioco bravissimo proprio ma poi è proprio bello giocare con lui è divertente è bello belle serate fantastico sì sì noi vi aspettiamo ragazzi perché è la prima di tantissime queste qui di serate insieme a grande Morris fate questo tempo per allenarvi poi si farà sul serio Bragari ha scritto Morris mangia l'insalata biscuit ancora dovevo prendere uno per l'equipaggiamento ma almeno sarà perfetto è facile Marco vieni su Cold War le facciamo sicuramente una serata Cold War la prima partita è vero è proprio della storia degli uomini ritorno marca un punto di lancio per il tempo il gas si sta avvicinando meglio se iniziate a correre la faccio io la faccio io subito dopo dopo prendo dalla live e faccio una bella crit eh Morris va bene dai 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 la mando poi il tubo a pacco la priorità è uccidere tutti i nemici all'attacco oh mio lo stesso le mette giù la testa nooo ma non dovevi andare lì oh ho sbagliato io e Marco mi sa che ha sbagliato tanto io pensavo di andare ancora nella lobby guarda se no mi largava io credevo ragazzi credevo di essere la lobby sai quella dove si spara cavolo prima ma avevo detto di fare la clip perché si è arrabbiata veloce scusate ragazzi è che ero così impreso da fare le uccisioni a maletta che l'ho neanche visto che è entrato dentro subito tra l'altro non vi vedo che hai più mi eravamo in tre partita almeno tra me eh infatti mi sta laggando troppo cioè mentre mi lagga io sto accumulando soldi infatti sono a 10.600 oh la la ah ecco di qua ah atteriamo sempre su questo posto raga si guarda segnitore margato ok dai atteriamo sempre su questo posto così almeno io lo so lancio di equipaggiamento eh sì ciao matto dirigersi in questo punto grandissimo eh mi raccomando segui il canale di marco Browns Games l'ho lanciato dentro il lato lancio di equipaggiamento in arrivo allora sul tetto grandissimo matto mattonella ma come mi lagga no ma lo so la prima volta che mi lagga così tanto vero vado on penso che è partita male la partita ragazzi eh no certa volta Cod fa questi scherzi ah ok beh venite sul tetto a prendere si sta arrivando sto arrivando su eh ho sbagliato lancio ciao Max mitico grandissimo grandissimo se non sei iscritto iscrivetevi al canale ragazzi ci saranno delle live fighissime tutti i lunedì col mitico Morison Morison non importa posizione masca ma non voglio ancora 25 non puoi arrabbi sbagliato prender l'arma sbagliato tutto sbagliato tutto ah che gli angolo che mi mette le piastre ma dai ma non avevo mai messo le piastre ma stai scherzando vabbè stiamo nella zona sicura ti dico in arrivo nell'area come siete voi sentate sparate di brutto e qui non c'è nessuno oh questo l'ho proprio squaiato attimo 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 no 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 io sono qui eh guarda guarda oh 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 come mai hai visto attenzione sul tetto di fronte al all'angelo e ve lo ri è qua ok ti vedo dietro ti vedo dietro ma voi venite nello stabile i rinforzi sono in arrivo ok ok ci sono io me lo provo a uccidere da dietro così posso lanciargli le palate a manetta lanciargli lanciargli l'empacchiamento alleato che cosa aiuto eh eh è biazza si si l'ho fatto si vabbè no 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 cosa è successo raga ma chi è morto io è morto come mai dove dove se ti uccidono adesso l'operazione fallisce attenzione aspetta io rimango rimango in vita allora raga così potete venire stai arrivando aspetta finito la destra a me ho un tuo alleato è appena rientrato si dai ripetete la partita di prima ahahahah ripetete la partita di prima speriamo speriamo ci proviamo boss un tuo alleato è appena rientrato nooo no sharder ciao oh oh ragazzi sta passando uno sì 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 sono lì che di resistere fino al rientro dei tuoi compatti stai arrivando uno ciao sharder domani non è rientrato non è rientrato da voi stavo riscaldando sì i rinforzi sono in arrivo nooo mentre lui mi ammazzava non perdevo danno i rinforzi sono in arrivo nemico in arrivo nell'area libana prima non ti fanno danno così non ti uccidono ecco tipo questi che mi stanno uccidendo oh no nooo cosa è mattato usa una claim quando ti fuori un'arma ma non la trovi questo è giusto avevo un'arma giola è stato un duro colpo ma appareccheremo gli occhi sbagliati io voi non sbagliate mai ragazzi no ho sbagliato io che ho abbandonato no non preoccupare diciamo che stavamo aspettando bravo 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 se lo devo fare io devo uscire eh ma no tu sei già uscito bravissimo io devo uscire ma donna che velocità mamma dio io ho 8 equipaggiamenti personalizzati ditemi un numero 1 a 8 così me lo prendo iscriviti al canale mattonella grazie 5 dico grazie 5 ok 5 è perfetto avvolto avvolto io exo e vestiglio romano ciao renata saudaggi renata esattamente fede esattamente moris è proprio lui un grande un grande ragazzi ci siete tutti allora no in realtà ora sto a fare da spettatore aspetta eh allora Ale lo invito adesso ok Ale lo invito adesso ci sta la rissa non è quello che è appena finito l'aggiornamento di web e infatti eh dissociatore niente no no dovete solo invitare a a io non sei no ad Ale allora Ale è entrato Pierpaolo vieni Pierpaolo dov'è che non ti vedo eh l'ho già invitato ah ok no basta abbandona la lobby no no arriviamo a 20 dai ma invitate a Ale allora dissociatore dove sei Pierpaolo non ti vedo non ti vediamo no no Pierpaolo c'è già ah ok io vedo no non c'è Pierpaolo io sono Moris è il mio compagno ciao Morris ciao mattonella mattonella ti ha scritto Morris è il mio compagno ciao Morris salutate Matteo ciao Matteo ciao Matteo ha detto ti senti ti senti ti senti ti senti grande cosa state facendo sì rebert vai entriamo tutti io ho invitato a Matteo grande Matteo grande Matteo eh ragazzi cosa devo fare devo entrare a rebert no devi entrare da noi devi accettare il mio invito eh non mi è arrivato niente eh mi hai visto invitato eh un pochino è lento è lento è lento è lento è chiarante questa cosa pippo è lento ma invitato se lo voglio aspetta ok il tiburon antonio io non lo vedo come fai di nick mitico trattino sotto tiburon aspetta e non ti vedo no io non ti vedo ma secondo me tu sei c s calarissa cosa sto rumore sono stato io scusa ah ok ascolta c'erano mezzi staccate le cucchia infatti si è sentito un bordello prova a entrare dal party per paolo ma siamo già in tre si può giocare in quattro no si 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 può prova a entrare dal party che paolo entra fai dal party guarda che si può c'è un no se non sbaglio la ricorre birch si può giocare in più persona secondo la mia logica vabbè adesso siamo i quattro giocamolo i quattro adesso però non riesco a vedere io tra gli amici il mitico pier paolo perché non me lo fa vedere ma si chiama csk la rissa io sono il tiburon rt buron sul gioco ma faccio una cosa sì arti è bravo da parti bravissimo dal parti si riesce a invitare e penso che anche lui poteva fare la stessa roba visto marco che moris ne valeva appena gran moris è un grande ragazzi ma moris è un grande anzi suo pop maurizio è un grandissimo anche lui è arrivato o dai dai si 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 grande grande maurizio eccolo sta no ragazzi ci siamo entrato il dissociatore a giocare con noi il dissociatore professionista il primo a morire dai vogliamo vedere la tua prima morte stiamo lì tutti a guardarti ci ho messo una vita a fare l'addestramento e infatti devi morire la prima partita la tua prima vittoria dai 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 ci sto se l'ha detto moris c'è esatto giulì 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 cambia skin metto ghost bello non vedo nessuno ha detto fil che qui non mi buttano fuori pista ha detto fil è vero è vero è vero è verissimo ma chi sta piangendo ragazzi non siamo ancora morti per piangere no no dai mattonella grande che sono io che ci sono con te il bambino di pippo è mia figlia è mia figlia la bambina è la figlia di pippo ma non si vede amore te però è nendo il carica devi abbassare un po' lì tutta la partita è una cosa normale se no sei troppo scrama non ti si vede amore marco drums livello 49 che cosa rango 49 ma certo ma guarda che io sono il mega grandissimo ps5 assolutamente sì mattonella cecchinatore seriale di varese ma stai scherzando pierpaolo ma va la va la va la il mitico grande lord il cecchinatore barbuto barboso oh raga stasera mi sono fatto la doccia ho tirato i capelli oh come vorrei io come fai data vieni leo guardate ciò sotto e mi fanno dal paracato di te arrivanto il velo vai un primo data guarda 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 è arrivato anche lui, è veramente mitica andiamo a prison saluta a tutti dai Leo saluta a tutti i promodi oh si comincia? oh grandissimi, ditemelo perché a volte mi sbaglio e credo che in tre partita ma avete visto ragazzi della chat il megalogo strafichissimo? l'avete visto? allora andiamo dove c'è il puntatore vi faccio vedere un'arma molto bella voglio proprio vederla, puntatore blu sul tetto tutto? no perché ho bagliato la priorità è uccidere tutti i nemici all'attacco è fortissimo per lo posso dire è proprio grazie la fatality mi hanno fatto la fatality è bellissima la fatality è strano vederti senza volante hai ragione hai ragione hai ragione tuo papà è strano vedermi senza volante ma infatti è vero o no? ma infatti effettivamente no? c'è le macchine in questo gioco io potrei potrei mettere il volante e guidare stai arrivando un nemico attenzione in atto bellissimi letture motico grazie Mattonella mi puntano oh ti senti di usare le gomme ti senti di usare le gomme oh c'è qualcuno da dietro raga però che spara oh oh c'è qualcuno dal dal tetto là sopra eccolo là eccolo là vieni fuori dai vieni fuori scusa Ale c'è solo questo in testa eccolo eccolo vai un colpo gli ho dato in testa quello là dai fissa fuori il mitico grande 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 qui c'è una carta dove ci servono colpi di medio carico mi lascio 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 tieni prendo lo sparando frecciati in basso nel mentre vai su quei colpi e premi assalto triandolo vai oh c'è ragazzo stai arrivando c'è arrivato io aiuto ci sono ci sono hai curato ancora grazie raga grazie grazie Ale grazie ma dov'è lasciate colpr ma dov'è per Paolo per Paolo è andato rientro in azione mi ha per Paolo che mi ha raggiungi come dietro come dietro ho capito vieni da me eh cercavo ma non mi sembureva no raga cosa c'è con l'elicottero mettiamo andiamo eh ma è arrivato uno con l'elicottero ha 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 movimento sono qui da Beijing Beijing sono da te l'ho salvato BB game sono mod si può capire ho salvato grande mattonella ritorno in campo forza va effettica un'elicottero ne manca uno ne manca uno e ci siamo fatti tutta la squadra dai lo sta curando sta curando sta arrivando da voi aiuto 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 attenzione due secondi arrivo io grazie ma tu non è no ha cercato andare a salvare e fare l'eroe di turno invece no io me ne sono andato per i fatti miei tu devi seguire a noi devi seguire a noi mi avete detto di andare alla prigione senza passare di via non lo so dimmi Marco di mi dissocio categoricamente dimmi Giulio dimmi che stavo gioco io stavo bevendo ma secondo me non vedremo molta differenza nel senso che siete bravi tutte e due dai dai gioca è un complimento dai dai fagli fare una partita laggiù dai dai fagli puoi giocare anche tu una partita a warzone come no dai non ci vediamo qui non ci vediamo qui non ci vediamo qui non ci vediamo qui Aldo ciao come faccio Aldo non ce la faccio a far vedere lo schermo di moris magari dai seguo io moris lo seguo da dietro così vedi che cosa fa tutte le uccisioni che fa va bene Aldo grandissimo esatto faccio il report di moris dai ma questo è già partita ragazzi no mi puntano no di spiegamento madonna se no ho fatto un macello ci dispegliamo Aldo manda moris Aldo manda moris Mastonella Mastonella è il tuo amico non è moris grande grande perché sta scrivendo cose è un jitter oh no è un jitter e lo sto scherzando è un jitter uccideva uno subito allora dove dobbiamo andare eh uccideva a me poi l'ho ucciso un altro un po' in due secondi e si è fatta tre persone no speriamo che lo vedo e non ci toglie l'altro bene andassi dove dobbiamo andare allora allora stima qua risposto ritorno ok ha messo moris dal suo babbino nuova factory allora c'è il timbolo giallo vincolo pietra sta arrivando un medico attenzione in alto ora ga ora ga uccide d'assalto trovato ok ciao missi bersaglia in capo abbattetemi si si il grandissimo mattonella ha detto che possiamo farcela ci impegniamo ci impegniamo giuro dai 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 ok mettiamoci la placca ciao 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 dai ragazzi dai è vero è vero qual è l'arma qual è l'arma guarda sta tutto arrivo boss ha detto dai ragazzi si 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 e allora dove sei dove sei dove sei sono sopra arrivo fermo arrivo 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 ah si io non ho armi si si però l'ho visto è errato hai l'hai serato grande dai 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 diamo diamo dai siamo siamo attenzione ai lato un altro morto oh c'è un 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 claxon uh mi hai fatto paura vai suoniamo i claxon dai dai suona suona mi sposta dobbiamo aspettare un pochino ah ok guarda guarda marco dove sei dove sei qui qui arrivo di ma no ma che figata è dai boss vuol vedere allora ma che vai pushare e boss vuol vedere un'altra vittoria va bene ragazzi ci impegniamo ci impegniamo questa la vedo bene vai a pushare altre vittorie dai pushare vittoria pushare vittoria ci sto l'hanno già sempre più vicino io che non l'avevo capito era no dobbiamo che lanciò questo massacrare tutto c'è preso il nostro coso era no ho marcato dell'equipaggiamento ti dico io quando usarlo ok l'ho preso io ok ce l'ho io va bene va bene va bene le piastre le ho messe raga guardi entriamo dentro casa boss è un po' un problema perché non usando il pc non posso avere la sua trasmissione farvela vedere ragazzi per me qualcuno aiuto grande mori hai visto hai visto moris come ma come ma cosa sto dicendo qui dopo mi devi spiegare come faccio vedere stanno dicendo ragazzi voglio vedere anche il tuo video no nella live però stavo dicendo è infatti un casino perché non ho faccio di equipaggiamento per voi moris boss dice vai moris grande se lui ha la ps5 non dovevi giocare questo ma ma tu è la ps5 ps4 moris no perché c'è un ragazzo che mi sta spiegando il mitico film dai ragazzi forza giuli grande giuli grazie mattonella 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 che mi ha detto delle cose fighe anche su gc quindi ne sa ne sa dopo al massimo film ci sentiamo me lo spieghi come si fa dai che sarebbe fighissimo davvero se si vede anche la tua ora per vedere la mia ci serviva o il pc o tu non giocavi cioè è meglio la prima però non hai il pc fai la condivisione schermo e lo puoi mettere sotto il tuo schermo ma mi dissocio qui non ci mi puntano mi dissocio rimangono 24 nemici uccidili tutti uscite tutti guardatevi vediamo vediamo usciamo usciamo no alla prossima deve essere così va bene va bene boss benissimo fammi vedere cosa c'è guarda che cos'è sta cosa stessissima ah io prima l'ho buttata una in acqua vediamo ah era quello bellissimo bellissimo io prima l'ho buttato con noi d'acqua così dove sei? è su ah è su raga io vado lì andiamo andiamo raga dai 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 grazie a pippa al sugo ma come avete fatto voglio salire cazzo mi puntano vado a via scusato volo di ricognizione in arrivo grazie 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 c'è gente aia sta arrivando un nemico attenzione in alto infatti che bello io non lo vedo io non lo vedo l'acqua venga autonomia occhio ai nemici poi è un po' di un altro perché ho perso le tue tracce sei al sicuro ah phil si dai saliamo sopra giuli ma davvero si potrà vedere se non è saliamo sopra in me anche se non è credo proprio ok arrivo phil scusami finita questa partita usciamo un secondo e ti invito eh scusa perché devo non si va da là no da qui da qui venite arrivo arrivo sono qui Aldo sono sopra vero Aldo grandissimo il boy ok aspetta Phil che ti invito attenzione in alto mi stanno sparando non mollate non mollate non mollate io sto col bazooka bravissimo il bazooka uccide i jitter se no phil sai cosa facciamo le persone no le persone le uccide anche però il gas si avvicina una bella cosa per uccidere un nemico attivo un'altra volta perché adesso dazi prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati il titosso 2 morti no no chi è che è morto morto e morto e morto morto oh c'è uno che spara su dalla sto subendo il fuoco che dico è un po' attenzione sia da dietro sia davanti comunque siete bravi dai mitragliatrici bravissimi ma l'importante è essere divertenti esatto bravissimi dai giochi giochi ha detto che prendi po' con grandissimo dai siamo troppo medici ragazzi bella lì bella lì raga dai io non ho serrato col cecchino sono caduto sono caduto dai io non ho provato aspetta raga mi sto sparando uno stiamo nella zona sicura occhio ai nemici c'era dentro occhio c'era uno lì c'era uno lì raga sta venendo mi sa ho visto sta arrivando un nemico attenzione è praticamente morto cioè proprio ha due soffi di vita ragazzi c'è uno da dietro c'è uno allora hai fatto da esca hai fatto capire che sotto c'è gen vedo uno da dietro ma chi è che lancia puoi dire a morris che dopo deve chiamarmi puoi dire a morris che dopo deve chiamarmi va bene va bene morris chiamalo dopo il tuo amico si mattonella Sergio mattarella oh l'ho battato l'ho battato l'ho battato l'ho battato l'ho battato i rinforzi sono in verri ma lei invidiamo mattonella eh si dopo chiamo chiamo a mattonella si si dopo ti chiamo a mattonella grandissimo c'è un soldato nemico mamma mia ragazzi mamma mia che un figlio solo sale dai che li aprivi ragazzi oh attenzione c'è uno c'è uno oh è morto grande morris oh è Marco Dranf grande oh occhio ti lancia le bombe vado chi è che lancia la bomba bravo grazie ok bravo ok bravo mattonella ok va bene grande 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 mattonella quindi non gioco più gioco no io prima sono morto un ton di volte non mi ha fatto più entrare eh eh si una volta che sono morto un'altra ma la poca morì tantissime volte si eh non se non morite voi non battete più il rinor una volta sono morto io troppe volte non c'entra questo penso che quando siamo arrivati alla fine è tanta è durata la partita si bravissimo ok quindi ora sto solo a vedere a voi e poi vinci se vinciamo vinci anche tu con noi attenzione ragazzi come c'è come c'è scusa scusa non te l'ho vinto morito poi vado a morire oh no mi stai arrivando ragazzi mi stai arrivando ragazzi se ti uccidono adesso l'operazione fallisce non lo so non lo so non lo so no no è andata benissimo tra l'altro mi sono divertito un botto ragazzi e la gente si si sta divertendo un botto tra l'altro mia moglie sta andando a fare i pop corn esatto esatto meglio sempre di un calcio nel sedere che i calci sul sedere sono grande cecchinatore di Varese grande cecchinatore di Varese barbuto dimmi tutto barboso oi dimmi dimmi Giulia mi fischi la canzone ah signore questa canzone piccola non ci dice che c'è il copyright sei impazzito mi dissocio mi dissocio eh mi dissocio eh certo categoricamente allora aspettate solo un secondo che invito il mitico siis dimmi usate questo tempo per allenarne poi si farà sul serio c'è un soldato nemico ah no c'è cavoli di brutte il mito... questo è il mito... bruttissima morte non va bene non ci siamo non ci siamo proprio con la morte di marco tra l'altro grande il mito ciao ragazzi salutiamo il mito ciao mitico ciao filbo filbo ragazzi viaggia veramente veloce in gran turismo basta allenarsi affronterete dei pelli filbo e una bega live di gran turismo ragazzi eh dopo vediamo di organizzare si fa dopo va dopo vediamo di organizzare una bella seratina moris si va magari si può fare con un bel venerdì sera ragazzi eh un bel venerdì sera no per domani no facciamo per venerdì dai così il mitico moris dai amore sondaggino venerdì volete oh perfetto facciamo la lobby noi poi dopo chiaramente se c'è bisogno anche di giocare con altri ragazzi faccio anche altre serate insomma dai si organizza sto arrivando sto arrivando filbo ma che ti ho invitato vai amico mi ti go si sono già dentro uccidete i nemici senza che lo facciano loro ciao vi dico comunque se lui vuole condividerlo lo schermo e come fa Marco Collo mi puntano attenzione in alto no ma davvero membro della squadra in dietro ha salvato la vita Marco non ti sei grazie grazie ma hai detto una bella cosa e ti dico dopo ma hai detto una cosa brutta beh comunque possiamo provare provare non costa nulla giusto ragazzi vai scusate mi sono un po' spogato è il bro della squadra in dietro mi stanno sparando oh cacchio Ale ti stavo ammazzando è strano devi stare molto attento ciao amici di Twitch mi raccomando iscrivetevi al canale e rispondete al sondaggio volete vedere un'altra live divertente fighissima come quella di stasera col mitico Morris col mitico sta arrivando uno e l'ho quasi ammazzato vedo nemici hai visto che lo voglio ammazzare io ho detto che arriva attento eh no eh vedi se l'ha aggaggia così anche la condivisione di schermo che può condividere eh però dai oh attenzione dietro dietro ragazzi dietro stai lì stai lì stai lì e l'ho presso al femore 5 minuti di sondaggio ragazzi volete la live venerdì spezzate il capocollo beh no dovevi far venerdì sì o no e basta vabbè oh ragazzi l'ho visto l'ho visto l'ho battato l'ho battato l'ho battato l'ho battato l'ho battato l'ho battato grazie ciao 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 no raga no no dì dove dimmi se capisci sono sul palazzo davanti ecco ecco c'è un tizio io sì lancio di equipaggiamento per voi non sento di dire l'usata oh no 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 sono qua l'autocura non l'ho usata prima ma dai ma la puoi fare fatto fatto devo anche scappare perché perché c'è la roba verde dai ma perché mamma mia la robina verde ok ci sei ti vedo eh ci vedo ti vedo vieni maris vieni a 13 metri vieni vieni quanta vitai non lo so no è di nuovo da clipare clipate si ma c'è di nuovo da clipare rientro in azione tra un po' vediamo moris allora oh c'è 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 no raga sono ancora a terra oh guarda guarda non lo so è arrivato quello da gioco fatto un mortal allora dobbiamo provare mitici sacco grande sì grazie mille dell'info grazie mille, se sei domani con Gran Turismo ti aspetto ragazzi eh grande Phil, grazie, grazie se non sbaglio caricare a Birch si dovrebbe fare anche in CIN eh, davvero? è vero però, attenzione attenzione, attenzione raga ciao, ciao, vai anche tu boss no dai, stai con noi o questo salutando Phil ecco no, non sono riandrata, non è ah, ok, ok, grazie oh, la cazzo oh, ma dai, ma come si fa a Bissarci due, c'erano due che mi hanno sparato intreccibile allora, io troverò a seguire il video di Morrison, sulla mia Playstation ci proviamo, però ragazzi, non so che tiene la connessione corrate, corrate io sono morto io sono morto ok no, qualcuno mi sta ammazzendo che cosa è successo? spettatore, io se mi sa che sono morto ho vinta proprio no, forse mi fa arrivo, arrivo questa volta non sbagliata è arrivato un nemico attenzione in alto oh, sto guardando dalla visuale di Mark eh, guarda quanta gente ah, devo star zitto? no, nel senso no a farla sparare vive che fa ah, ok non mi sento oh no, 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 no ma secondo me non fatevi uccidere oh, eh, l'hai detto ma perché hai detto non fatevi uccidere quando mi dicono così io voglio dubito oh, fa piccola ti dissocio da Marco restate in venticino tieni i giocatori ma sono buoni ma non mangiare i boccorn gioca ma sono buoni giù i boccorn lasciando a giù se non fa un po' di copi gli vuole ma siamo morti ragazzi no per fortuna c'è morti si grande sondaggio ragazzi sono morto praticamente no, no, io sono vivo sono vivo occhi avverti la finestra di ritorno sta per chiudersi sono vivo ma mi chiamo morti aggiornamento grave alti terminati presti tornare no ma schia che sta sparando allora tu vieni da giù no, no, no vieni giù vieni giù piofalo aiutami ragazzi se ci siete moris membro della squadra e lord i ragazzi di twist vogliono che giociamo che vienerdì se ci siete ok tu ci sei fuori ok ve lo fai sapere molto ok quanta gente vieni come vin vieni Grazie Se faccio in serio, ritorno non è più disponibile Arriba il gas, arco la nuova zona sicura Oh! Oh! Va arrivando un evitore! Attenzione in alto! Porca miseria, si nascondono Morris, ma in base a che cosa le armi sono più potenti alle stelle? No! Mi arrestavano vesti cieco Potessi fare di no! No, in base ai... Ai potenziamenti che ci dai La velocità dell'arma I colpi... Devono più veloci o meno Volevo trovare un fucile a pompa, ma non c'è Io a pompa... Solo se proprio pusci Ogni volta ti servono Eh si Non ti servono tanto Non mi ricordavo Stavo a guardare il turno perché non mi ricordavo Sì però ragazzi vengono tutti da dietro Sì è vero Sì i camper hanno dietro le parti È vero è vero è vero Stavo camminando tranquillo dietro al muretto ancora Mi hanno fatto la patata A me ha fatto la babbality Ahahahahah Poi la pandemia li ha fatto male Poi la pandemia li ha fatto male Ahahah Carla ha detto da giudici sono buoni popi Sì Sì sono quelli al micro eh A micro eh Ma perché le partite non sono queste qua della preloby Che faccio un disastro Sì 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 Io ho la polenta Che buono la polenta Oh La polenta Con le patate E Dimmi dimmi dove sei? Oh che bravo grazie che bello Fini dell'allenamento Vediamo cosa avete imparato Ok ragazzi Io domani mi faccio anche il fogone che mi sei fiata la tua volta Sì sì Davvero Ho trovato ragazzi Ho trovato una zona tranquilla vicino all'acqua Sì Sì Torniamo a prendere un po' le sole Come dì? Ho usato un certo Un certo Un certo Un certo Un certo Sì 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 Quindi Ritorno Dove andiamo? Dove andiamo? Attenzione al gas Andate nella zona sicura Inchilereci Sopravvivete per farvi entrare i compagni uccisi Ottenete punti con le vostre azioni Per farvi tornare più in fretta Ci proviamo Ci proviamo gioco gioco Ma dipende dalla connessione Non è proprio un fattore che non vogliamo Visto che grande Sì ci ha detto come si fa E Uccidete tutti E praticamente Ci proviamo Ok? Quindi venerdì Se grande Morrison c'è Se no lunedì Facciamo Un'altra bella live E proviamo a Convividere il suo video Nel Nello schermo Ok? Ci conto eh Ci conto che vieni gioco Ma vieni anche Quando faccio un po' di gran turismo eh Mi raccomando vi aspetto ragazzi Ok ragazzi Io ci sono un po' di forti E' tra l'altro C'è stato bravissimo Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Iscrivetevi al canale Non c'è più nessuno che lo scriva eh Oh ma dove siete sopra? No no E' su un po' di là Io sto solo cercando No Chi non sto cercando Questa magna i popcorn qua A casa da Marco Drums Games C'è uno C'è uno ragazzi Mi sto sparando Aspettate Arriva Marco Come sei andato sto balordo? Beh questo Lo facciamo Ah E' andato sotto le scale E' l'ho ucciso E' ucciso? Grande Grande C'è poco tempo Andate alla meta Guarda Ah si Ti bechiamolo ti bechiamolo Do 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 Fai con questo baldo C'è l'ho Help Infatti Ti bechiamolo Ti bechiamolo Ti bea Qual è giaiva sacknogluy E? Eh Oh la la E su ti becavi sopra? Sì Grazie non arriva nessuno io provo a prendere il bullfrog gas in movimento facciamo il giro con la macchina ci dai dai dove dove è qui la macchina ragazza venite eccola ci dai giro di macchina ci sta di brutto grande giulie giulie l'importante giulie è che ci divertiamo guarda guarda allora in teoria in teoria perché il mega parcheggiatore Marco Dranz la prossima volta mi tolghi oh ecco aspettate raga vediamo vediamo come fa Marco Dranz dai 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 oh ragazzi me la sto facendo il retro aspetta 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 che mi sto rianimando vai 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 tu vai che ti spunto io no 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 ma non è la nebbia c'è un botto di gente qui no 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 passo alto sto fatto franchetto quando c'è un giocatore a male poi c'è un giocatore a mano puoi scoccare il gioco non mi vede quedo si è meglio aspetta è meglio così giù lì ho abbassato il volume del gioco per rispetto a quello del party grazie grazie tutto merito della mitica carla di mia moglie brava carla ma no non ti salvo più no niente non ci salviamo a vicenda il tempo di scendere col paracattuto io ti sento 24 ore su 24 come i gamberoni se ne vanno all'indietro i gamberoni ma siamo in 5 come perché non ci era unito no no phil dc no no è andato via è tanto solo dirci come fare a condividere la un figlio ci facciamo una battaglia vai giusto che sto non si fa una bocca piena ma scusa non c'è la caldera da fare il tiburon il medico pierpaolo gioco gioco dice sì alla battle royale mi ha fatto venire una voglia prima il mitico morrison con i biscuit che mi ha fatto venire una voglia mi sto a mangiare tutto il sacchetto anche delle patatine ah insalata a biscuit ormelo finito che te credo marco però mi stavo tenendo un po' scusami giuri scusami sono troppo buoni ma senti lo sta facendo una specie di sms di titolo lì ciao ciao moni voi scrivetevi al canale di marco marisco campo senza e senza e senza matto marisco la campo senza scritto il tuo amico che l'ha scritto la prossima volta vediamo se riusciamo a condividere il suo video controllate l'attrezzatura c'è tempo prima della missione eh fischi più forte di me e parla pure più forte ed è pure ed è pure più forte di te bravo oh ma quanti puntini oh un morto one kill one shot raga ma parla come mangi one morto marcus notte notte vale notte vale monica ci vediamo alla prossima live dove vuoi dove vuoi tu tu dimmi io vado io l'aiuto che sono la Rebbe ah ok sono le mappe Rebbe andiamo al centro andiamo a Mines, Mines o Pick Mines dai vai tra andiamo andiamo al Mines allora aspettiamo un attimo li guiderai tu ah sono il caposquadra quindi come si fa a buttarsi tutti andiamo tutti dobbiamo saltare prima o poi prima che si sbamba l'aereo eh si sbamba l'aereo è bellissimo bello bello mi piace sto sbamba è come io quando dico che mi si sbifora la macchina che va tutta dove vuole lei è bello sbifora oh scusami si sbifora la macchina ma Pier si sbifora è bello Pier c'è c'è è che parla poco il mitico Pier non Pier si dissocia dal microfono eh Pier ce l'ho dietro attento a aver dietro Pier ma per me siete andati bersaglio in capo abbatteteli ah voi siete andati lì eh si ah ciao per Paolo dove doveva andare su no lo so io sto camminando voi vediamo eh per questo se qua Pier a scapposta non c'è solo di cercare dai fidati di me ti faccio da scudo umano ma ma quando è il tuo amico è comunque di meno dai un attimo il mitico moris gioca insieme e il grande maurizio sono poi forse vieta a giocare con tu io oh ragazzi vedo vedo uno sopra guarda 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 il rinculo infatti non so eh faccia a Warzone devo saccare le ragioni sta a moris e se l'ho visto l'ho visto allora dov'è moris devo capire devo solo capire dove sono gli amici poi si pusha ecco vai da marco ok la cosa di pusha mi piace sembra tipo una cantante di rapper oh no aiuto gai aiuto gai eh a me no 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 perché sono morto ma no perché c'era uno dietro raga ci ha fatto tutti aiuto ah siete morti tutti no io sto ancora quasi in vita moris se riesci bene però non fai niente vai al gulag questo è il gulag sopravvivi e rievarai la tua libertà possiamo anche rivivere però eh al gulag concentrati iniziate il gulag questo non l'ho lasciato l'amico provoca il nemico con te l'aspetta non l'ho lasciato l'amico non l'ho lasciato l'amico non l'ho lasciato l'amico eh che è quello eh tutta la gente che siamo morti al gulag ciao ciao inizia il scottro ah vai ammazzare le persone preparati vai 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 ti spacciono in due ma troppo li dai vai vai vinci questo scontro e tornerai a fronte oi oi vero ci sei tu ma che vai e fatti valere soldato dai 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 vieni 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 mi ha ucciso un certo no sei morto mettiamolo allea tornerà questo stava fermo ma torniamo a quali giochi porti se trovate 4000 dollari mi potete riprendere si riprendete a bello io sono zero ragazzi siete tutti morti C'è l'unico io? Tutta la responsabilità ce l'ho io? Eh, certo Il canale è tuo Eh, ho capito La fatality Eh, bravo, dimmelo Dimmelo, mi raccomando Tranquillo, devi riuscire a accumulare 4000 donne per le società a Moritz Ok Io non l'avevo capito Eh, no, sì, sì, ma tranquillo Il tuo alleato è finito nel culo Che dovrà battersi per tornare in capo Ok, ok Senza pressione, eh Senza pressione No, no Non sei nato Non sei nato Con i pugni Con i pugni Ti do i pugni Ti do i pugni Ti do i pugni Ti do i pugni Non c'è più niente, ragazzi È fatto È rimasto 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 È bravo Mamma mia che schiappa vivella Bella mi va il segno dell'Ucraina Mamma ne sono accorti Bella ragazzi È bellissima Bellissima serata La vera Sto divertito tantissimo Sì, sì, sì Oh, Morrison Morrison Quando devi andare Nanna O comunque che vuoi smettere Dillo che smettiamo, eh Quindi No, no Tanto io domani Ci sono Cioè Non vai a scuola Non devo andare a scuola Beh, io domani Devo andare a lavoro Quindi E io no Quindi Voi no, voi no Ma io sì Quindi Ma un attimo Vado al bagno Vedevo Dai, vai tranquillo Io devo aspettare che le persone muoiono Allora Mi devo aspettare che le persone muoiono Visto che ci sto Vado un attimo al bagno pure io Dai, dai Andate 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 tranquilli Intanto sto dicendo Due, tre cosettine Ehi, ehi, ehi Vi intrattengo io Io vi intrattengo Allora, Maurizio Maurizio, vuoi provare a fare la condivisione? Dimmi tutto, dimmi tutto, Maurizio Senti, scusi Tre minuti E voglio metà Ah, ah Marco Eccolo qua, grandissimo Ti stavo scrivendo sul telefono Ah, ah, ah Dimmi Allora, no Ho letto che hai scritto Se voi possiamo provare Quindi tenevi la condivisione Eh, sì, se vuoi Eh, allora Com'è che si fa che ha detto Che non mi ricordo più niente? Allora, aspetta Diceva Allora Aspetta, eh Trasmissione No Condividi schermo Ah, ok Va bene Allora, no Volevo provare a fare Se riusciamo magari così Gioco gioco Il tuo amico Eh Come si chiama? Aspetta che non mi ricordo più Scusa Mattonella Allora Eh, allora Tu vai Schiaccia il tasto share Condividi il schermo In basso Cioè, condividi il schermo Sì, sì, sì Sto facendo Condivisione il schermo Sì Visualizza Aspettate ragazzi Non mi fa affare che Ok No Mi vedi? Aspetta Aspetta Ho fatto qualcosa di sbagliato Prova a rifarlo Scusami No Non si vede Prova a rifarlo No, perché Phil aveva detto Che si poteva Metterlo in un riquadro Prova a rifarlo ancora Scusa Morris Lo sto rifacendo Ma che cavolo ho fatto? Scusate Sono io che faccio casini Ok Eccolo qua Bravissimo Che combini ma Non lo so Allora Che cosa dice qui? Aspetta Perché io ti vedo Sto vedendo la tua connessione Allora Aspetta un attimo Multitasking Nell'immagine Aggiungi a lato Eh sì Sì, vai Vai Nell'immagine No, aspetta Facciamo nell'immagine Sì ragazzi Si può fare Amici miei Che cosa? Peccato che non si può fare La stessa cosa con me Così vedevo come giocavi tu Allora Però se io metto Lo schermo di Morris Mi toglie la webcam Fa niente Va bene Fa niente Aspetta Vediamo un attimo Dove non hai la webcam? No No Ma 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 Mettiamo la Mettiamo la mitica Immagine di Morris Morris Me lo condividi ancora Per cortesia Scusa mi sono uscito Per sbaglio Io sono da solo Eh infatti T'ho visto Io sto da solo Boh Allora Te lo rimando Mattonella Aspetta Aspetta che sto condividendo Lo schermo di Morrison Un secondo Mattonella Ah i genitori Ah i genitori Iscriviti Iscrivetevi ragazzi Iscrivetevi a canale Allora aspetta Che figata Grandissimi Allora faccio una cosa Siamo così Voi lo vedete ragazzi No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato tantissimo Aspetta Scusami Eh lo so Sei uscito Io vedo che Marco Siamo da solo E anche io Siamo tutti soldi In questo mondo Di ladri Allora No ho sbagliato ancora Caspiterina Aspetta eh Allora sposta Esci da un lato Ma no ho sbagliato Allora Inggiungi l'immagine Aggiungi all'immagine Ok ragazzi Ok Questo è lo schermo di Morris Grande Ok Ah ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo ragazzi Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo fatta E ringrazio Phil Grandissimo Phil Che non sapevo neanche Che si potesse fare una roba di genere Sono da solo io Come mai sono da solo però ragazzi Eh mi invito a tutti Anzi mi invito io a tutti Bravo Ok Oh guarda che si vede Grande Si vede la schermata proprio di Morris Grandi Bellissimo Che figata sta cosa Che figata sta cosa Vedete chi viene iscritto Eh si Almeno possono vedere chi è che gioca davvero Eh si ragazzi Chi sta vincendo le partite Esatto Eh 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 Almeno che non bara Ma magari barassimo Almeno vinciamo Marco È pieno ma Marco Vi fai gli altri Sì Noi siamo delle pippe al sugo Le pippe al sugo Grande 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 grazie E come mai non mi vedete Eh non lo so Io non ti vedo Vedo Ale Vedo Morris Non è che magari Non è che magari Non è che magari sei tipo in In offline Grande 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 Bravissimo Mike Ciao Mike Sei iscritto Grazie 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 Mike Guarda qui Guarda qui Lo schermo sopra Mike È il mitico Morrison Guardalo su in alto Non vedete la mia faccia Perché non si può usare tutte e due Ma quello sopra è il grandissimo Morrison Boris che sta giocando Ok raga Così posso anche mangiare i pop corn Visto che non ci si vede la faccia Sì ma si sente uguale Ok Chi è che deve fare la partita Il grande Morris Ok Mi raccomando Seguite il canale Sì Grandissima Buono Cosa muo? Allora questo È una figata Sì 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 Dai 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 Facciamo Facciamo Non so cosa bisogna fare Ma facciamolo È un carro Che lo devi portare Da una parte all'altra Ah Allora Se sei quello che Lo deve distruggere Devi aspettare dieci minuti Senza che loro Lo portano da quella parte All'altra All'altra Ok Sì È vero Il contrario Tu devi portare Il camion Dalla parte all'altra Se sei quello che deve portare Il camion Ok ok Perfetto Dai proviamoci almeno Dai insomma Ti vedete? Io non vedo niente Sempre partite lunghe Gioco gioco Ma io non vedo modi Dimmi se ti piacciono i miei compaggamenti Fammi vedere Bella Quello verde Mi piace un botto Questo Bello Hai bagato Bene Benissimo E c'è questo Che Questa è la mia preferita Ma anche questa Ma che bella Manco io Ma è sopra Non lo vedete sopra in alto Lo schermo Non si vede scusami Lo schermetto Quello che avete in alto Vedete che non ci sono più io Con la webcam E mia moglie Eh Non si vede la faccia di Morris Ma si vede lo schermo Eh È vero Non c'è? Non c'è Ah No non c'è Per la live non si vede Ah io lo vedo Ma voi non lo vedete? No Ah Caspita No non si può fare Metti il suo Eh no Non si vede Abbiamo capito Ma è otto volte che lo dice Abbiamo capito Eh non lo so raga Non Dai per la prossima volta Vedo se Se riusciamo a fare Farlo vedere Ma io sinceramente Come faccio? Dai dai Qualcosa faremo Qualcosa faremo Eh ragazzi Non lo so Attenzione in alto Centro Attenzione in alto Eh non Non la vedete voi Io lo vedo però Eh Lo vedevo io Lo schermo di muore No 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 Da dietro Più di tanto Comunque O si fa con pc Ragazzi O È un po' difficile Ah sì C'è personaggi Che fare Quel discorso qui Si può fare Con OBS Ragazzi Che infatti È Eh ma non è tanto Gioco gioco Il problema Di provare Marco io ti chiamo Quando faccio il giocato Vai 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 Chiamami No sto rispondendo A gioco gioco E al tuo amico Che mi stanno scrivendo Di provare Ma Penso che sarà un po' difficile Provare nel senso che Siamo molti più di quattro Ma E lo sai Oh quello Stiamo ammazzando un tipo io Oh Oh mio dio Marco Occhè dietro Dietro ci sta facendo tutti ragazzi Sul È sul coso È stato orribile Mamma mia Nel cranio Dimmi Visto Dove sei Dove sei Siete tutti morti Ma non l'hai visto No Ero morto Sei andato su Ammazzando Dalla 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 mia Scermata No L'ho tolta L'ho tolta Perché i ragazzi Non la vedevano Cacchiarola Sì Scusami Eh Infatti Infatti Dicevo Ero morto Non l'ho visto Ero su ancora Nel cielo Ho fatto una tecnica Ma di spiegamento Spiegati ragazzi Ma non stiamo giocando adesso No no Di spiegamento Ah Ma va Pensavo già Ah 30 secondi Ah ok Pensavo già di aver fatto una partita Dalla madonna In che c'era una stupidata Di partita Eh Infatti Sembrava troppo bello Ti dico la verità Vabbè Come io in sogno Eh Quasi Allora è facile Questa cosa E' che noi che siamo Pippe Quello è il problema Ah questa è quella del camioncino Eh Bella Mi vada lì Siamo più di qua Siamo 20 Siamo 20 contro 20 20 contro 20 Aia Tanta roba 20 contro 20 Carico esplosivo Eh I pezzi di satellite Sono stati localizzati Recuperatene il più possibile Scortateli alla meta Aspetta Aspetta Ma se arriva uno Non è che ci sega tutti No no Io prendo la calibro 50 Guarda 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 parlando guarda un stupido dietro ciao mattonella ciao 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 ci vediamo venerdì o lunedì uno l'ho passato mi piace quasi di più bello grande mattonella non prendo la calibro 50 vai che uno forte no l'ho quasi ammazzato ci vediamo qui la prossima volta grande boss grandissimo è vero è vero è vero è vero grandissimo ma ci esiste c'è uno che stava a prendere la carriera di parte prima che va avanti dobbiamo dare in giro forse a raggiungo a mano loro esatto esatto mattonella iscriviti al canale dai dai grandissimo è che uno l'ho segato lui l'ho segato per raggiungere il primo c'è poi dai forza ragazzi arrivano io lo spianco tempo è attento mori io prendo la calibro 50 mi sparano eh sì c'è il cittinatore c'è mi sparano eh va bene io provo a andare da dietro provo a andare da dietro che stai facendo eh no però non posso andare nella zona loro ahah stava se sono andato nella zona loro 60 secondi rimasti ad Village she has come z Silence ha 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 more ha morto incredibilemente il tower okayjuri grandissima dovete salire più sul cammino allora io posso per raggiungere il primo c'è poi c'è chi poi abbiamo recuperato un pezzo di satecchi lo schifidone qua mi ha mattato però non ci abbiamo il contratto mi stanno puntando vi fallo e giuro che stiamo amato arrivo arrivo io prendo la calibro 50 sono su camicino ciao vita mia bellissima ah 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 grande giuli oh ma che sono lì sono lì tutti buonanotte giuli mitica sono tutti lì nell'angolino nell'angolino arrivo subito 60 secondi rimasti uno l'ho ammattato mi hanno colpito due l'ho ammattati non ci credo bravo marco andiamo sul camicino alfa in movimento sul camicino io prendo la calibro 50 nooo ma non è incredibile eh sono lì proprio a spararti aspettare che uno va su sul cosettino eh è vero forse è meglio non salire sulla torretta è meglio da indietro è assurda la torretta vai andata vai andata vai arrivo arrivo ahhh stanno sparando c'è uno c'è uno di fianco alla casetta dove c'è il camioncino colpa è reggito dovete andare avanti arrivo eeeh oh nooo sono arrivati i riporti nemici si sarà divertente fico adesso cos'è contrario in versione party in versione party questo è carino si questo è carino eh dobbiamo aspettare dieci minuti ok perchè dieci minuti dimentico Morris eh Morris dobbiamo aspettare dieci minuti prima che arrivano gli aerei che distruggono ahhh davvero? bello ahhh ho dieci o cinque non mi ricordo fico carico esplosivo il nemico ha localizzato un altro pezzo è proprio la modalità così eh non possiamo permettergli di raggiungerlo prima che arrivino in altri rinforzi ci vuole tagliare commento per il control alfa in movimento dai vengo io eccomi vai sul tetto ahhh io non riesco a capire come fai a correre così forte ahhh non ti sto di si ringa ahhh ok alfa in movimento spazzate via la scorta nemica ti stai doppando allora perchè vedo che stai correndo come un pazzo ma come fai ad essere già sopra? ma come fai? aspetta non trovo le scale aspetta ma come hai fatto a salire? non lo so non capisco ahahah alfa è troppo vicino al primo check point si si a me piace tantissimo il gt7 boss su youtube se segui anche il mio canale youtube ho 1300 video un po' di tutto eh primo check point perso il nemico ha preso un pezzo di saperlo mi piace giocare a warzone riesco con me con modis modis e il oh guarda i camioncini che vanno avanti stanno sparando bello fermate vai vai stanno andando indietro io eh perde terreno per un soffio oh oh conteso grande oieieiei scusa sono morto ahahah e e poi ho portato anche borderland e crosswire tokyo eh comunque scusa ma stavo parlando col col boss oh questi qua sono bravi questi qua eh questi sono venuti avanti si sono già venuti avanti ragazzi vedi che non vanno neanche sulla torretta non vanno sulla torretta dov'è che che è alfa in movimento no ci stanno alcuni ciò che ha detto non ho ammazzato una torretta è dentro uno in portato vai l'ho ammazzato io raga l'ho ammazzato io raga l'ho ammazzato io raga alfa indietra no non posso dare la tua mitragliata ti ammazzalo subito no no di fianco caspita era di fianco è bella sta modalità eh alfa in movimento bella spazzate via la scorta nemica ti attendo eh porca miseria alfa in movimento vai che uno segato ho fatto ho fatto ho fatto 300 sono dentro una scatola no ma cosa è successo sono dentro una scatola mi stanno sparando mi sono ribasto in dentro ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto mi sono bruciato dentro la torre no ma cosa è dentro mi sono bruciato dentro mi sono bruciato dentro che giugie bug mega bug alfa sta avanzando fermatelo c'è uno dietro al scanno mi sta avancando mi hanno colpito mi hanno colpito c'è Kino sono indifferente moto oh non sento il grandissimo Pierpaolo Pierpaolo ti stai concentrando con un mazzo è grande eh mamma mia però due minuti all'arrivo dei rinforzi da due minuti mancano hanno distrutto il nostro stagolo alfa può avanzare due minuti e vinciamo dai 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 lo dobbiamo fare entrare Scoglie dove è con neuromas prima al solito vai che l'ho matato tanto ormai so già dove dai dai che vai dietro no la bomba una bomba dal dito partita o ragazzi è entrato il solito è entrato solito dentro ok è morto da l'inizio dai dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo raga dai dai me lo sento me lo non sopra vai andiamo a contendere si vabbè no dobbiamo portarlo indietro ma c'è il solito tipo sopra Vai 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 che va indietro vai che va indietro ormai lo conosco quello lì è tutto mio amico Si è un prezzo di sbagliato sul campione occhio che arrivano di fianco No no di fianco di fianco a finestra ma no 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 correte fermate incarichi bravo bravo lord le facciamo un'altra stacchi moris 13 va bene va bene dai ragazzi dai facciamo l'ultima ma facciamo ancora questa di carico sì sì dai 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 ci sto ci sto ci sto ragazzi comunque pareggio giusto a stavolta si associa il grandissimo dissociatore pierpaolo grande infatti bella stasera tonè si bellissima live ragazzi comunque grandi grandi si mi sono divertito un calcio del sedere esatto quello che dico sempre io non lo so mi dissocio così mi dissocio ok di sos ok raga ok ragazzi dai facciamo l'ultima poi noi ragazzi ci vediamo sicuramente venerdì se c'è il grandissimo moris poi me lo fa sapere ci sentiamo poi esatto venerdì sera si me lo fai sapere no vabbè dai me lo fai sapere su whatsappi poi c'è sabato quindi eh sì oppure sabato è sabato non c'è scuola infatti dai dai venerdì sarebbe fighissimo venerdì sarebbe fighissimo perché poi sabato perfetto domani di nuovo warzone domani no gran turismo grandissimo pierpaolo ok va bene possiamo fare venerdì no no io cosa ho detto domani ragazzi scusate adesso che faccio gran turismo cacchio ma domani esce ma esce lego star wars facciamo lego star wars ragazzi venite a vederlo lego star wars se lo porto domani sera mi dissocio no dai bellissima serata lo saluto a tutti ciao boss grazie grazie tantissimo boss grandissimo mi raccomando vieni domani che porto o lego gt domani esce lego ragazzi lego star wars e bellissima il gioco della leggo è fantastico mi appuntano grazie mi stanno salutando ragazzi e li salutano tutti i ragazzi che sono andando a letto ciao a tutti i ragazzi amici di grande lord ma ti rendi conto che abbiamo fatto la serata insieme lord ma che figata non l'avevamo ancora fatta infatti poi grandissimo pierpaolo dissociatore riusciamo a sentirlo oltre a sentire le sue mega titolosi e concentrati esatto mi sono fatto 3 kg con la macchina lui è noto moris che si fa 3 kg con la macchina così così e gioco ci provo e ci proviamo se riusciamo a farlo si in realtà io lo vedevo però non ho capito perché non lo fa vedere a voi sinceramente adesso poi dopo chiedo a phil il mitico ragazzo che c'era prima che ci ha detto di questa cosa e vediamo se riusciamo a fare far vedere il mitico moris a fare la sua partita nella mia live perché praticamente cosa faceva mi ha perso la mia webcam e io vedevo la sua partita e ragazzi non è la partita vero vado da sotto terra colori ok ok poi tra basta scherzare inizia la vera battaglia di spiegamento la pre lobby insomma doveva gli spari dove vediamo ma perché cambia il posto di carico esplosivo questo mi piace pezzi di satelliti sono stati localizzati recuperate nel più possibile scorta voi andate avanti alfa in movimento sono la carico 50 io faccio come quell'altro mi sono sul cassone si si sono non ti possono prendere è già morto? si spara si spara si spara si spara si spara devi tenerlo sempre il dittino su r2 amico mio vai andate sulla torretta non c'è nessuno sulla torretta raga sono io sono io sono io si spara con il dittino e altrimenti spara con il dittino io prendo la canzone per raggiungere il primo jack point incredibile oh qua ce n'è dentro uno eh sto andando col paracolito e proprio a prenderlo ragazzi forza vabbè andiamo ricompelando un perso di statenze alfa in movimento sentiamo la testa vai nooo mamma mia stasera si è fatto il taglio o sbaglio? si 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 è vero è vero ma è l'ultima è l'ultima partitina gioco gioco dai l'ultima poi ci salutiamo tutti e andiamo a nanna eh? grandi ragazzi oh un'arma viola bellissima uso la calibro 50 ah questo è un nuovo percorso si è fatto bellissimo oh ma che stronto questo qui a me è sparato proprio no dai c'è un'arma bellissima era viola 4 kill dai 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 dobbiamo portare avanti il carretto eh no è difficile alfa si avvicina al secondo checkpoint ci vado ci vado mi sdraio faccio come quello la di prima ok ci si usa la dovretta beh no dai 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 ok uno da dietro l'ho matato io ragazzi ho detto grandi e google mi ha aperto la pagina di ancora google l'ho fatto avanzare la prima linea pezzo di satellite ma non aveva questo qui allora c'era uno sul contene il contene raga su contene non me lo aspettavo non me lo aspettavo ero dentro nel caso mio tranquillo e questa è proprio una bella modalità portatela avanti andiamo andiamo ragazzi facciamo avanti il camion no da dietro ma dai sempre da dietro raga è una cosa incredibile dai dai portiamola avanti dai dai raga andiamo è bloccato il camion che cosa fa? ok raga dai 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 portiamo avanti sti carretti guarda dove ero nell'angolino perché ha sentito che ha aperto la porta hai capito? no è incredibile usola calibro 50 dai 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 raga che ce la facciamo manca a pochissima ma quasi raggiunto la meta sento la vittoria dell'ultima partita proprio no in campo la casezza vero ok uno l'ha mattato raga 60 secondi rimasti il nemico tiene al la zona granata Vai io non l'ho segato, non l'ho segato Oh uno l'ho segato, dai dai siamo arrivati ragazzi No 20 secondi rimasti No 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 Siamo morti praticamente Non riusciamo neanche a arrivare, vai ci sta, ci sta, ci sta, è stata giocata bene questa partita No no, c'è da un anno I rinforzi del nemico sono arrivati Bella, bella, mi piace, mi piace Inversione party Dai, devo fare come prima, spingere il camion tantissimo Sì ma sta uno col cecchino, mamma mia La lascia perdere Eh ragazzi Ho ucciso tipo dieci volte Paolo ho ucciso dieci volte cecchino Sei un cecchinatore Sei un Sei gugio o sei cecchinatore Cecchino sei uomo Non mi viene Ma non lo so Esatto, è tardi Sono stacco Poi ragazzi Scusate, tre minuti e 40 se poi mi vedo Tre minuti e 40, dai dai Dobbiamo non farvi venire Oh cecchino raga Cecchino sul Scusate dell'elettricità E' eliminato i difensori Il primo che becco però Hai visto Adesso sicuramente l'ha ancora Giusto? Eccolo là, guardalo Eh ma senza un fissile da chi Oh, cos'è che sta sbalando qua No, questi sono forti raga Oh cecchino è Eh, questi sono forti Sì sì, no, no, è vero, è vero Quello hai ragione Beh, noi siamo bravi Eh, no, bravi Non siamo riusciti a bloccarlo al primo checkpoint L'hanno fatto il primo che ha preso un pezzo di satellite Dobbiamo difendere Oh, andiamo bloccato Vai andate all'indietro, mandatelo all'indietro Siamo bloccato alfa Con il cheso Faccia, non cede niente Eliminate i difensori intorno ad alfa Mi hanno colpita Mi hanno colpita Eeeh raga Ma qui sono dentro dappertutto Sono dentro dappertutto Grande, grande, grandissimo Bravo, bravi Alfa sta avanzando Fermatelo Un po' tanto Un po' tanto Eh, va bene Eh, babbo Dai Dai, che l'ultima ci sta Ci sta che ci stiamo rilassando Oh, ho visto un camion arrivare raga Oh, mi ha segato È entrato nella torrezza proprio quando ero lì davanti Stiamo contestando alfa Ma perché i minuti fanno così? Sì, infatti Ah, quando lo arrestiamo Stanno fermi Credo Eh sì, è vero Ragione, ragione Non ne ho raccordi Ma non ce l'ho voluto Prima che arrivi al secondo checkpoint È vero È vero Sono forti, eh Sì È abbastanza Sì, sì Questi sono forti, eh Sono Che cosa? Non tanto forse forti Sono Preparati, sì Sì Ovviamente sì Ma io Ti vedi? Stanno qua a curarmi Allora praticamente di qua non si può andare Non si può uscire Sono lì in quattro Sul posticino qua per uscire E ci muori, mi piace Adesso vado a vedere se riesco a beccarli da dietro Andiamo a vedere dietro A vedere se riesco a beccarli da dietro Bomba, bomba, bomba Cioè mi devo fare mezzo a mappa al contrario Per andare da dietro Guardalo, sento Ok, vedi? Da dietro sono deciso a segarlo, ragazzi Nooo Eh sì, 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 sì Sono per favore Però non è che l'hanno vinto facile Nel senso sono ancora lì, eh Eh Sì, infatti Non è che Eh, infatti È che sono praticamente qui Appena Se non siamo Oh, da dietro anche Sbucano da dietro Sì, sì Assolutamente Dall'alto, da dietro Dalla Dalla scala Ma che era invisibile Prima che arrivi al secondo checkpoint Alla scala da tutto, da tutto Vai, restato Vai Sessanta secondi Sessanta secondi Sessanta Fate da tutto, amici Fermate, alfa Fermate, alfa Dai, che stai Nooo Vai con te Oh, non riesco a vedere il camera Non riesco a vedere il camera Incredibile Incredibile Non da per sì Eh sì Ora alfa può avanzare Senza il nostro ostacolo Oh, da dietro ragazzi Dal sottopasso Ne arriva uno dal sottopasso Occhio, eh Venti secondi Quando c'è il respawn Quando c'è il respawn Per tutto Uno sopra la torretta Per un Bellissimo, davvero Ok ragazzi Non si può fare prima che spegniamo Nooo Io sono troppo morto Morrison è sempre primo Ne ha fatti 25 25 25 Grande 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 Io uno Grande Grande No a te gioco No a te gioco Siete dai Scusate ragazzi Perché sono veramente stanco Grazie mille Grazie mille Morris Grazie mille Morris Ci sentiamo anche su Whatsapp col tuo copino Grandissimo Maurizio E ci vediamo per un'altra mega live Ti ringrazio Ringrazio Lord E ringrazio anche il grandissimo Pierpaolo Grazie a voi Assolutamente Warzone Morrison Il mitico Lord Il mitico Pierpaolo Iscrivetevi al canale E se vi avanza l'abbonamento Fatelo che Che è una figata Ciao a tutti amici Ciao 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 Oh ringrazio anche tuo papà Ringrazio tuo papà Morrison Il grandissimo Maurizio Ciao 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 amici Ciao amici di Twitch Buonanotte Grazie a tutti